Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sulla A1 prestare attenzione per nebbia a banchi segnalata sul tratto appenninico tra Aglio e Rioveggio. Sulla regionale 429 di Valdelsa restringimento di carreggiata dal chilometro 44 e 500 al chilometro 44 e 600. Ricordiamo l'obbligo di catene a bordo su autostrade e strade a lunga percorrenza. La viabilità cittadina a Firenze in via Baracca per lavori in corrispondenza dell'incrocio con via Tagliaferri restringimenti di carreggiata. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!